Ciao a tutti ragazzi, io vizio96 e siamo qui insieme al nostro piccolo Umi Kizai Ciao a tutti ragazzi Siamo su Castle Recrusher e Umi ha il suo cornetto che suonerà LOL è divertente Adesso ci sono dei mostri anfibi qua Sono resistenti, non fanno tanto danno, però sono tanto resistenti Ah beh io sono immortale quindi, diciamo che sono immortale Sono tanto resistenti Quindi sono fatti per me queste Oh guarda, l'omenato Mi ha fatto quella grigliata, sembra figo Un grigliato E i più soldi di me non vale LOL, biondino Vai, bisogna picchiare Che poi dicono che c'è un biondino E' biondo Ulisse, non lo sapevato Certo, certo Eri biondo Vi metto, sì, certo Però mai ti sei tinto No, porto la controfigura, sai Ah, è la controfigura pure Level 18 Ahia Stronzo, ahia Guarda che infame sto pesciolino di merda Oh, lì domani se lo verifichai fino ai moduli di storia Dovrei studiare, però Questo è il Crusher Esatto, questo è il Crusher Allora, andiamo Oh, guarda come sono veloce Sono speedy Eh sì, inizia già a essere più veloce quello che mi interessava Oh, finalmente siamo un attimo più veloce a correre Oh Non levano tanto, però ti stunnano con la cosa Aspetta quanto tolgo con una freccia Tu agilità quindi in teoria le dovresti levare di più 10 10 Io levo 10 con la cosa normale Con la spada Oh Io tolgo 23 con la spada Sono resistenti Vai, uno Ah, ci sono un tizio, hai deciso, eh Due Andiamo Sai che manca un altro livello a me per tipo Aspetta, rompi questo Tanto io sto tipo Tancando tutto, vabbè Ahia Oh, te ti gioco mazzo io Ti rilevo di più Ah, quelli sono maledetti Ah, si li vanno già incontrati, no, sì che li ben già incontrata Ah, stronti Sì, loro sì Oh no No, no Sicuro Sì Tutti i tipi possibili Ma questo no Ma si Nah Ahia Oh, insomma, tolgono tantissimo Sì, abbastanza No, la spada bella è preso Mannaggia te, Uli Se vuoi te la ridò, cosa la prendi tu anche Ecco, vai, vai, vai Aspetta, ci diamo prima i tizi, va Ok, è fatta Ok, riprendila Ahia Vediamo cosa dà Ecco, vai, prendila tu se vuoi Ma quant'è che è questo? 4 di velocità più colpi critichi Cioè, critichi Mannaggia Questa 1 di velocità No, no, è molto meglio questa, grazie Prendo questa No Vediamo Cosa ha qua Vabbè, dai, fammi vedere un attimo Vieni, vieni a vedere Allora Meno 2 di Ah, no, no, non voglio meno 2 di forza Eh, me lo so Se vuoi prendila tu, per te andrebbe bene No, boh, alla fine a me serve Meh, meglio la mia spada laser Se il mango Sai che il 4 era l'anniversario di Star Wars? Il 4 che? Il 4 maggio Ah, sì? Mmh L'anniversario della prima uscita di Star Wars Beh, poco tempo fa non c'era anche l'anniversario di Dragon Ball, se non sbaglio Boh, non lo so Sempre a maggio dovrebbe essere star No, ad aprile, fino ad aprile Boh, non so Non ho mia idea Sopra? No No, no, qua, qua Vedi con le scarpe lì? Perché ci sono delle scarpe? Poi vedrai Ok Immagino Oh, ti ha fatto la magia dalla terra Immagino Mi sembra tipo Avatar Lol Immagino Immagino Oh, morite Vada gente Tu hai visto quel video di Surreal Power Dove raccontava del film Del Del tipo delle crostatine No Perché dovrebbe raccontare Qual è la pubblicità del tipo delle crostatine Della gallina Madonna Quella del mulino bianco Uli Non lo so Ecco Guarda le scarpette Va parlando Perché è un serpente con una scarpa Ok, non dimmi che Ho capito chi è È Medusa Esattamente Ahah Andiamo a pillarla, giusto? È facile da battere, tranquilla, sì Oh Sei solo attenta Attento Ai suoi serpenti che lancia Che sono tipo dei kamikaze Merda E ti avvelenano Vabbè, avvelenano Mi leva uno Hai visto quanto mi leva? Uno Io lo so che ti levano uno Ma intanto Sì, ma uno ti leva quando si avvelenato anche a me Uno Uno È lei che fa tanto danno Vedi questi serpentini Vai, dai, me lo ottanco io Non è un po' Mannaggia Ok, ti ho dato una mano Piccola... Ah, stronza Guarda, ma non mi cide per niente Ahia Guarda, sto cercando di killarmi Non ce la fa Ah, ok, ora ce l'ha fatta Non hai anche dovuto usare la pozza Eh, guarda quanto mi leva con un attacco Sono immortale, io sono Ah, ricordiamo che prima di ogni episodio andiamo a comprare pozioni Per quello ne abbiamo sempre cinque Ahia Eh sì, infatti No, poi dicono che citto anche qua Ma come fai a cittare qua? Non me lo spiegare, però Però c'è anche la gente che citta, sai Guarda che è quasi morta, Uli Eh beh, nabba Poi ci sono io che sono immortale C'è l'altro che non è molto forte, eccola Ok, ho già le scarpe Anche io vorrei le scarpe sue Sì, ma è No Ridammela Oh, vediamo che spada, eh Ridammela, ridammela Chi li prendi, prendi Vai A posto Ridammela, ridammela Rivoglio la mia Vedi, cosa cavolo fa? Perché non leggo Eh, non leggo manco io Uhi Agilità Ok Buono No, avanti Sì, sì Uh, no, 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 Uli Posso ritirarmi Perchè? Aspetta, aspetta, aspetta Stai fermo? No, ecco Aspetta, buono Stai fermo lì, eh 49 levano Lo so, per quello ti ho detto Non so ne ho potuto ritirare Allora, Uli Questi sono fortissimi, ok? Ok Però tu devi vedere una cosa Devi servare quella luna Sì Va bene Anche quella palla che mi ha preso sotto Ecco, guarda Perchè c'è una Perchè c'è un gatto che No, un topo che vola Ho visto Non era un topo Era una pecorea Hai presente quelli dell'inizio E dove gli cavalcavamo? Ah, sì, sì Il lama Ti ricordi? C'era quello che spruzzettava Cacchetta Ah, sì, il lama Bambi Bambi Perché Guarda già quanta vita ho Ho già usato una pozione Ah, bene Ne abbiamo ancora quattro Ne ho due Ah, te sì Te sei nabo Non hai pozione Ahia Mi uccide Una Ne ho solo una Ti ho detto? Qua Io ce ne ho ancora quattro Non ci spulziamo Con solo tanto Una Dai Hai visto? Hai visto che lui con un colpo Mi ha tolto tutto Un'intera vita? Ho già risolto un'altra pozione Guarda Uli Ti prego Aspetta No, Uli No, no, no Si è morti Io sono morto Ciao Uli Ok, no Ci sono Ci sono Oh, merda Come si è morto? Eh, ti ho detto Lui con un colpo Il grande Mi toglie tutta la vita Ah, merda Ok, abbiamo perso Eh, vabbè Mi butta l'aria Non ce la faccio Allora, andiamo Dio caro Perché non rompere un giorno Oh, un picchio Oddio, si, si, si Eccolo, eccolo Costa un sacco Lui è un piccolo boss Costa un sacco È il più bello che esista Wait, wait, wait Arrivo subito Ok Io attendo, Uli Allora Qua c'è Oddio Guarda sta sciabolazza Oh, figo Vediamo, aspetta Quanto costa Oh 4,45 Ed è È buonissima per me Eh, per me è buonissima Per la salute Guarda lì A me è la difesa tantissimo Costa un bel po' Forse la compro, va Andiamo a vedere dopo Allora, dove siamo qua? Vari soldi, ragazzi Posso andare tipo al boss iniziale Che è una cheata E ti dà un sacco di soldi Eh, io devo star lontano Perché devo venire Mi ha già colpito Mio caro amico Attaccherà tutti Aia Guarda la mia vita, Uli Oh, già sono pozioni Lol 19 Sono pro Sono pro Guarda questo Ah, porca Stronzo Eh, Umi Mi sa che dovresti partire Ecco, con lui servono le frecce Guarda quanto sono veloce a tirare frecce Lol Sei un arciere Sei Legolas Io sono Guarda Quanto vita mi toglie Perché? Perché? Eh, perché non ti fai tanker Ah, io non voglio farmi tanker Ho ucciso Non muoiono Sai che ragazzi Mi arrivano su una quarantina Vero? Di questi Non sto scherzando Non hai neanche un modo di dire Questo è il problema Aia Io faccio il piccolo archer pro Oh, grande Aia Guarda Una vita e mezza mi toglie Sto maledetto Oh, devono ucciderlo Aia E' ucciso Cosa è successo? Ti siete ritrasportato? Sì, tipo Cosa è del genere? No, guarda La mia vita Mi manca solo una pozione Uli Ah, ma levano tantissimo Levano in 50 No, guardami Sono morto Sono morto Ah, c'è ancora Un Ah, mi tengo io Aia Io odio questo livello E' il peggiore livello Che esista in tutto il gioco Io lo posso tenere Cioè, lo posso tantare Ok L'ho ucciso a frecce Quello Perfetto Vai Distruggi Oh, guarda che bello Prende a botte Madonna Sono senza pozze Che cosa brutta Ah, quante ne manca Ah, merda, guarda Ah, questo è il tizio Aspetta, me lo trattengo io Tu spara da lontano Vai Distruggi Distruggi Oh, muori, bello Ok, siamo un'accoppiata perfetta Uli Ma hai visto che con un pugno Ti togli 59 Ah, ma io sei mortale, guarda Non mi fa niente Vai È morto Oh, magari Sei un pro Ah, guardi No, aghia 69 Vai da lontano Vai da lontano No, boh Ma questo non è un problema Perché non ti Ti tolgono una vita e mezza In un colpo Quindi Con questi ce la posso anche fare Con gli grandi Che davvero mi mettono alle corde Eh, sono Sono fanno male Però vabbè Io sono un po' immortale Quindi Ci siamo facendo Ricordati ragazzi È sempre colpa di Umi Se muoiamo, ok? No, no Lascerò me il cibo L'hai beccato te Ho una spada Vediamo La loro spada Vedi? Guarda quanto iniziano Ad arrivare Uli Ah, ok se non so Un problema Ce l'ha finito Coi piccoli Sì che sono un problema Uli Ma ritengole Tutti vai da lontano Vai vai È impossibile sparargli da lontano Mi arrivano lo stesso Ahia, 60 Ok, sono morto È una bomba senza senso Questa Uli Deve solo Riuscire a rianimarmi Guarda Fa un sacco di danno A questa spada Eh, ti ho detto Guarda lì Guarda lì Guarda Ahia, stronzo La spada Cacca Ti critico le ho fatte 400 417 le ho fatte Critico Oh signor Bellissimo Oh non muoiono, eh Cioè non cedono Quante pozzini hai, Uli? Eh, prima che se muoiono Non posso Ah, è vero Prendi la pozzina bevendola Oddio Prendi la pozzina bevendola Sia salvo Nel mondo No, non ce la faccio Ok, arrivo Aspetta Ok, ragazzi Rieccoci Allora, io comunque ho fatto quasi tutto livello, sai? Manca sulle bumerang Prendi la pozzina è presa No, dovevo andare Sì, prima Umi che te non riesce a leggere niente Quindi non farò sempre la stessa cosa Eh, mi serve Mi serve un'arma da Continuamente la difesa Aspetta, aspetta, non so se ho preso le pozzina io Sì, sì Sì, penso sì Sì, mi provo a vedere Alla fine io non è un problema per le pozzine Ah, no, ok, non ce l'avevo È un problema che tu devi starmi dietro a killare con le frecce Facciamo una piccola cosa veloce, eh È pazzo, soprattutto Ovvero? Cambiare gli armi Andiamo un attimo Sì, io, io Devo cambiare te Tieni pure quello Non so nemmeno cosa fa, sai? Difesa più tre Quindi può essere buona Perché non me la fa prendere? Perché me Ah, è tua, mannaggia Ah, questa è la difesa più tre Oh, figo? Le va anche in più Eh, per cui non servirebbe Questa ha difeso più tre Difesa più tre Magia più tre Quindi posso fare anche questa Questa è buona Questa la prenderei Però magia è buona Non per me Eh, questa invece Mago tanker, eh Mago tanker Ah, anche questa è difesa più cinque Eh, però è livello venti Eh, nessuno l'ha preso ancora Eh, io ce l'ho, io ce l'ho Ah, ce l'hai Questa non è meno Questa fa schifo Questa fa schifo Difesa meno, meno Difesa Perché non è una pa... No, questo è un din Ok Ok Ah, guarda, ne ha spara Questa dal petto Tipo più quattro Beh, è inutile Veniamo avanti, non c'è nulla Ma questa è la migliore per ora Andiamo Andiamo, ragazzi Abbiamo cambiato la nuova arma Aspetta, non corre Stavate che controlla un attimo Che c'è su Skype Ah, no, ok Andiamo Aspetta, non corre, amico Ma guarda che è veloce Sparare le frecce Forca valla Eh, ma fidati quando è al massimo Adesso sono a metà E quando è al massimo Non vedi neanche che la ricarica È bellissimo Legolas You are here Ah, aspetta No Non me ne frega, andiamo La vita, volevi? Fa nulla Invece Ok Dai, ma perché qua non arrivo mai a girare? Ecco Vai, via Ok Riproviamo di nuovo Dai, riproviamo Ok Allora, questo Cerco di steccarlo Aia No, non avvicinarti a me Vattene No Allora, vai Secca, 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 secca Eccolo, guardatelo il Bambi Ciao piccolo Bambi Saremo tutti con te La cacarella con te anche Simpatica una cosa Oh, decapitato Vai così Vai piccolo Umi Quante poste hai perso? Niente Eh, perché c'è il piccolo Ulisse che ti protegge Andiamo Piccolo Ulisse Gordo e felice Proteggo Vale Proteggo te Sono un protettore dell'umanità Aia Aia 50 Eh, ma l'ho beccato io Non te Quale è il problema? Sì, lo so Però comunque 50 65 Porca, ma l'ho beccato E' un po' di elevato Sì, sì Hai visto quanto mi ha elevato? Che non mento io Vai, merda Vai piccolo amico, uccidi tutte Ho usato una pozza Questa non mi piace No, vattene Vai Legna 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 Aia Oh, mi ha lanciato Stronzo Oh, l'ho beccato alla pietra Aia 65 Non ci credo Oh, l'ho decapitato Due volte Aia Vabbè, tanto mi deva 10 la cosa 19 Perfetto Vita full adesso Adesso quasi vento, sai? Aia Vai Comunque quella Quella mazza è fortissima per me E sarebbe utilissimo Ah, adesso Uli Inizierei a guadagnare Soltanto un punto Un punto invece che due Ah, che brutta roba Hai visto che era lui che lanciava i massi? Sì, sì Ah, non l'hai visto prima? No, non l'avevo visto Anzi, veramente in due volte ho finito il gioco e non l'avevo mai visto Guarda, non riesci a non attaccare Eh, lo so È una coppietà perfetta questa Dove essere agilita il massimo, basterei solo io Oh, la merda Oh, è capitato Tre dicapitazioni Dammi a meno del cibo a me Se tu ho preso il cibo con la vita full, vabbè No, guarda che non ero full Vabbè, sì Sì, eri full Dettagli, dettagli Non morire stavolta, ok? Non muoio, non muoio Venti, ragazzi Sono ex pro Mi sa comunque della doppia exp anche a me, sai? Eh, sì, sì, sì È buono perché tipo così prendiamo la quadrupla exp Con due di quali, sai? Eh, lo so Ok No, Uli, falla prendere a me Ok, vai Dov'è? Non c'è L'hai presa tu? Mannaggia, io Eh, no Lasciala Vai, vai Ok, perfetto Grazie Aia Levati Per favore Eh, vai Umi la tua sola sta andando via Ok, vabbè Via Corri 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 Attacca No, perché dall'altra parte? Guarda, guarda Sono tutti attorno a me Guarda Un orgione bello, grande Vai Altri arrivano Attanto Eh, ti ho detto Continuano ad arrivare Vai Servo Servo un po' di forza Ecco Senza c'è il senso di morire Però servo un po' di forza E questa non è l'unica parte difficile Perché dopo Arrivano Gli stessi Lo stesso numero Però anche al piano di sopra Dovrebbe Se non sbaglio Ma quante ne sono? Sono tantissime 58 58 Non si può Vai via Vai via Porta lì da me Vai Allora Ma quanto tempo è che stiamo registrando, Uli? Non so, penso 20 minuti 25 Oh, non è un problema Dai, facciamo più grandi Dai, facciamo un video lungo Today Oh, lo divido io poi Non è un problema Vai, Uli Picchia Tre pozze Guarda Ma dai Non finiscono mai No, se lo devi mettere Mettilo intero Perché se lo dividi in due Poi io carico Una cosa dopo Tu una cosa prima Ah, ok, giusto Pure ne carichi due di fila Tu Metti parte uno Parte due Eh, non è inutile Andiamo Ungo mio, grazie Mangia, mangia Eh, le banane Lascia a te Oh, aspetta Qua sì C'è vorrebbe essere il pollo Oh no, la mela 88 dalla mela Oh, ecco lì Gli schimesi Ma sai che ha la faccia da Eh, ehm Cioè, eh, ragazzi Non sono io però Sono loro Sì, sei tu Sei tu Dai Anche il mio tipo di inizia Sponkill Guarda Sponkiller tanker Io guarda che sono forte Quanto non mi stavo sponkillando Il problema è che I polli lì neri Non li puoi anche sponkillare Bene, ragazzi Noi stoppiamo qui Umis Ristrarà da questa parte A dopo Adesso